Cripto Brand è una società nata da poco, è incubata presso l'incubatore Speed Me Up dell'Università Boccoli di Milano e ci occupiamo di informazioni certificate, quindi dare strumenti in cui è possibile fare questo tipo di verifiche da parte degli utenti finali, sia a livello di documento, quindi verificare se un documento stampato è originale oppure verificare se un prodotto venduto in un negozio o venduto su web è o meno originale dal punto di vista della certificazione delle informazioni che sono collegate a questo prodotto. Quindi ad esempio un brand può inserire delle informazioni attraverso delle etichette particolari che noi realizziamo e essere verificabili dall'utente finale tramite un detector che poi sarà il suo smartphone per verificare se questo prodotto si doveva trovare effettivamente nel negozio in cui il brand prevedeva che fosse venduto, piuttosto che un documento verificare che effettivamente sia emesso da chi lo doveva effettivamente emettere. Quindi un'università che mi dà un diploma di laurea, piuttosto che un bollettino postale pagato effettivamente alle poste, un F24 pagato online e certificato dalla banca. La strategia a livello paese secondo noi è legata anche a un fattore di standard, quindi arrivare a definire degli standard che consentano dal punto di vista anche etico di avere delle possibilità di generare informazioni e di poterle confrontare e verificare in maniera trasparente e semplice da parte di tutti in modo tale che non ci sia il furbo della situazione che possa approfittare di situazioni in cui questa cosa non sia possibile da verificare e quindi concedere il tallone d'Achille in certe situazioni in cui è possibile poi non poter fare questo tipo di verifica.